Sì, subito dopo la Santa Pasqua abbiamo pubblicizzato un'altra iniziativa che ha voluto l'amministrazione comunale, in particolare anche con l'assessore alla pubblica istruzione della Landi. Noi nei mesi scorsi con l'avvio del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia abbiamo consegnato ai bambini che usufruiscono del servizio mensa dei lunchbox. A questo siamo in questi mesi, abbiamo aggiunto con un'ulteriore iniziativa, dotare dei bambini di un bicchiere che può essere riutilizzato più volte e soprattutto abbiamo dotato tutti i plessi scolastici dove c'è il servizio mensa dei dispenser di acqua, quindi un'iniziativa che va sempre verso la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento di quelle che possono essere il consumo delle plastiche, cercando di favorire comunque il servizio della mensa scolastica ai genitori che ne fanno richiesta per i propri bambini e soprattutto, come dicevo, dando ulteriori strumenti anche per evitare le bottigliette di acqua in plastica attraverso i dispenser per poter approvvigionarsi direttamente. Quindi un'iniziativa che va a salvaguardare l'ambiente ma soprattutto anche i più piccoli. Bene, Sindaco, vorremmo parlare con lei del rifacimento degli asfalti sul territorio. Sì, noi stiamo portando a compimento un ulteriore progetto di rifacimento degli asfalti sul nostro territorio comunale. In particolare in questa settimana sono iniziati e quasi terminati i lavori al parcheggio di Via Eammare a Pellezzano Capoluogo. Si tratta di una superficie di circa 220 metri quadrati. Era un intervento molto atteso da parte della cittadinanza ma soprattutto dai residenti in quanto nella parte sottostante al parcheggio ci sono dei garage e da anni si verificavano delle infiltrazioni nei garage sottostanti. Siamo andati ad intervenire con circa 3 centimetri sia di guaina ma anche di asfalto sul parcheggio onde evitare le infiltrazioni che si sono verificate negli anni. Da qui a breve riconsegneremo alla frazione di Capizzano, ai residenti di Via Eammare un'area di parcheggio completamente riqualificata cercando di mantenere il decoro della zona. Per quanto riguardano ancora gli interventi, altri due interventi che ultimano il progetto che abbiamo avviato l'anno scorso, via Carbonari nella frazione di Capriglia e via Capitano Pastore dall'incrocio fino al palazzetto dello Sporto di Capriglia. Anche là il tratto stradale, che sono strade comunali, sono stati interessati dal rifacimento del manto stradale. In via Carbonari tra l'altro c'era una problematica anche per il raggiungimento dei mezzi, quindi è stato fatto un intervento direttamente con mano d'opera a piedi, non con i mezzi meccanici perché era complicato intervenire, però anche quel tratto di strada comunale siamo riusciti ad intervenire. Da qui a breve partiremo con nuovi interventi e poi ne daremo notizie alla cittadinanza. Noi abbiamo provato già due delibere di giunta dove abbiamo dato l'indirizzo politico per quanto riguardano due finanziamenti che abbiamo ricevuto, la fraccaro di 180 mila euro sul 2022 e un altro progetto di rigenerazione urbana di circa 60 mila euro che andrà ad interessare il rifacimento del sagrato della chiesa di Coperchia. Bene Sindaco, sono state pubblicate le graduatorie del servizio civile? Sì, per quanto riguarda il servizio civile si è conclusa la frase delle selezioni, sono state pubblicate ufficialmente anche le graduatorie dei 14 giovani che dovranno entrare a far parte diciamo un po' del sistema comunale per circa un anno, il servizio civile è un'esperienza che forma la vita, il lavoro, prima dell'immissione nel mondo del lavoro, inizieranno ufficialmente il 25 maggio, quindi l'amministrazione comunale, faccio i complimenti all'associazione che ha promosso i progetti in partenariato con il comune di Pellezzano, finalmente dopo qualche anno siamo riusciti ad avere di nuovo il servizio civile universale sul nostro territorio. Bene Sindaco, adesso vorrei concentrarmi sui contributi sia di calore e locazione che anche per l'emergenza coronavirus che questa amministrazione ha voluto mettere in atto. Sì, noi abbiamo fatto quattro sui fondi Covid che abbiamo ricevuto nel decreto sostegni bis, noi abbiamo ricevuto all'incirca 130-138 mila euro di fondi da destinare a varie attività, una di queste erano i buoni spese, noi abbiamo fatto quattro erogazioni durante l'emergenza sanitaria fino a dicembre 2021 di erogazioni di buone spese, quindi abbiamo erogato fondi per quattro volte. La restante parte che avevamo a nostra disponibilità, quindi direttamente sui fondi vincolati dell'ente, le abbiamo destinati al bando per quanto riguarda i cani di locazione, quindi entro il 5 maggio si presentano le domande, è un contributo che rispecchia un po' quello che aveva fatto anche la regione durante il periodo dell'emergenza sanitaria con il riconoscimento dei canoni di locazione, all'incirca 46 sono le domande che sono arrivate a tutt'oggi, ma c'è tempo fino al 5 maggio, quindi non solo abbiamo voluto dare buoni spese a più riprese, favorendo anche un po' gli esercizi commerciali del nostro territorio, quindi l'economia sul nostro territorio, ma anche e soprattutto i canoni di locazione per coloro che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto nella fase Covid, con un riconoscimento di un contributo massimo di 700 euro che rispecchia il 50% di tre mensilità e quindi che però deve rientrare sempre nei 700 euro e fa fede all'attestazione ISEE per poter accedere a questa agevolazione. Centro vaccinale, come stiamo andando? Centro vaccinale, si stanno registrando ogni sabato all'incirca 20 vaccinazioni, quindi immagino che ci sono anche delle quarte dosi che si stanno per gli over 60, che si stanno di nuovo avvicinando al centro vaccinale, noi abbiamo fatto la scelta di continuare a tenere aperto il centro vaccinale nel nostro comune, nel distretto sanitario 65, in cui ricade il comune di Pellezzano con la città di Salerno ed è aperto il sabato mattina dalle 9 alle 13. È un'attività che contiamo di voler portare avanti, anche perché con l'ASL ci siamo incontrati con il nuovo direttore sanitario, il dottore Lupo, che ha preso possesso da poco tempo, diciamo, del distretto sanitario in cui ricade anche Pellezzano e stiamo lavorando alla riapertura anche dell'ambulatorio, delle visite mediche che si facevano pre-Covid e che tra l'altro i locali sono stati completamente rinnovati da parte dell'amministrazione comunale in quanto lo stabile del consultorio di coperchio è interessato anche dai lavori per quanto riguarda la realizzazione della caserma dei Carabinieri. Ma i locali dell'ASL i lavori sono terminati da tempo, stiamo cercando di lavorare insieme all'ASL a un programma di quelle che erano le visite ambulatoriali che si svolgevano sul nostro territorio cercando di riportarle all'interno del consultorio di coperchia. Bene Sindaco, chiudiamo con una panoramica, quella sulle opere pubbliche. Per quanto riguarda le opere pubbliche, noi nelle settimane scorse abbiamo riconsegnato alla città di Pellezzano i locali dell'ex asilo di Via Vitale dove vengono ospitati le attività del laboratorio musicale dell'istituto comprensivo di Pellezzano ma anche il centro di urno Leali che è un progetto delle politiche sociali del comune di Pellezzano e quindi abbiamo riconsegnato alla cittadinanza e ai residenti di Pellezzano Capologo dei locali che sono stati completamente riqualificati nella loro interezza. Stiamo lavorando, come dicevo Pocanzi, a un progetto di circa 60 mila euro per quanto riguarda il rifacimento e il restyling del sagrato della chiesa di Copercchia, quindi in piazza Giovanni Paolo II. Con il contributo di circa 180 mila euro interverremo con la realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Copercchia, l'abbattimento dell'anfiteatro che non è stato mai utilizzato e qui nella realizzazione di una nuova area di parcheggio sempre nella frazione di Copercchia e poi soprattutto con il rifacimento degli asfalti sulla viabilità comunale, in particolare nelle frazioni di Capezzano, via Kennedy e via località Corgiano. Quindi da qui a breve partiremo con questi ulteriori interventi, come partiremo con gli allargamenti dello svincolo di Cologna, quindi su via Giuseppe Mazzini, sulla provinciale interveremo con l'allargamento, ma anche dove sta il campanino a Copercchia cercheremo di fare un intervento di allargamento delle strade, così come avevamo preannunciato. Tante altre iniziative sono in programma soprattutto sulle opere pubbliche e di volta in volta ne daremo informazione cercando di tenere sempre alta l'attenzione su quelle che possono essere le priorità soprattutto nello stile di vita dei residenti di Bellezzano e mantenendo il decoro del nostro territorio, la pulizia, come abbiamo implementato il servizio spazzamento, abbiamo implementato per quanto riguarda l'igiene urbana anche la raccolta differenziata sul territorio va molto bene in termini percentuali, stiamo carriascendo in maniera esponenziale, la raccolta di diolesa o si sta funzionando bene, stiamo cercando, da qui a breve inaugureremo un impianto di nebulizzazione, di sanificazione che abbiamo previsto all'isola ecologica che è diventato un fiore all'occhiello e tenuta molto bene per quanto riguarda l'isola ecologica, quindi una serie di progetti che da qui a breve renderemo noti alla cittadinanza, ma soprattutto ecco anche con l'approssimarsi della stagione estiva stiamo cercando di manutenere il più possibile i parchi giochi completamente rinnovati, accoperte nella villa comunale, alla palestra all'aperto, si sono tenuti, si stanno tenendo dei corsi gratuiti di yoga sul nostro territorio, ma cercando di riacquistarci gli spazi all'aperto, anche diciamo da un punto di vista della manutenzione del verde, ormai con la manutenzione del verde stiamo a buon punto e i risultati si stanno avendo già dopo l'affidamento esterno della manutenzione del verde e della manutenzione del territorio, quindi tantissime iniziative che sono sempre finalizzate a bene collettivo e soprattutto al rilancio sempre di più del comune di Pellezzano. Bene Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso, ci risentiamo la settimana prossima. Grazie.